Siamo oggi con la giornalista Milena Gabanelli, autrice e conduttrice televisiva. È stata inviata di guerra, realizzato reportage memorabili dalle zone più remote del mondo e con la trasmissione Report, di cui per anni è stata autrice e volto televisivo, ha creato il più noto format di giornalismo investigativo in Italia. Attualmente cura il Data Room per il Corriere della Sera e collabora con la Sette. Dice Rita Levi Montalcini, le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Per lei qual è stato l'ostacolo più difficile che ha dovuto superare? Visto che sono qua erano tutti ostacoli assolutamente superabili, quelli che non si superano o difficili da superare. Uno lo sa sempre dopo. Speriamo che non arrivi mai. Una sua lotta vinta? Una mia lotta vinta è stata quella di riuscire a dar vita ad un programma di inchiesta investigativo Longevo. È nato nel 97 e è ancora in buona salute e di questo sono molto orgogliosa. E invece una lotta che ha perso? Dar vita al sito di news online, per la quale ero anche stata assunta per la prima volta nella vita. E quel sito a cui ho lavorato molto, alla fine la decisione è stata quella di non farlo e quindi oggi credo che l'Italia è l'unico paese dove la tv pubblica non ha un sito di news online. Questo mi dispiace. E questo dice già molto del nostro paese. La vita mi sembra troppo breve per trascorrerla a odiare e a prendere nota dei torti subiti, dice la scrittrice Charlotte Bronte. Se fosse stata un uomo la sua carriera sarebbe stata più facile? Non lo so. Non essendo mai stato un uomo, non lo so. Ma ha subito delle discriminazioni in particolare? O ha avuto questa percezione? No. In una celebre vignetta dei Peanuts, Charlie Brown chiede a Lucy, dove hai trovato la forza? Siamo donne tesoro, la forza trova noi, risponde Lucy. Qual è la sua forza? Io non credo di avere una particolare forza, diciamo che reagisco, quindi il no non è mai un no definitivo e quindi io ho sempre reagito a tanti no che ho ricevuto e alla fine poi sono anche diventati dei sì. Diciamo che quello che ho capito è che nessuno ti regala mai nulla e quindi per forza di cose uno deve trovare l'energia, a seconda delle situazioni e delle condizioni, trovare il modo per far fronte. E c'è una persona in particolare che l'ha ispirata? Sicuramente come linea di vita generale mio padre è stato una grande fonte di un modello, nonostante fosse una persona molto umile, di origini molto umili, una persona che aveva studiato poco, ma aveva ben chiaro la complessità della vita e questo me l'ha trasmesso. Sul piano professionale sono stata, diciamo, ispirata o mi ha dato la linea una frase buttata lì a caso nei fufi dell'alcol da Ettore No, che è forse il più grande inviato che ha avuto il Corriere della Sera, oggi quasi novantenne, auguri Ettore, che mi ha detto un racconto senza aggettivi. Cioè, ecco, è diventata la mia linea di lavoro. Scrive la poetessa Alda Merini, devo chiedere scusa a me stessa per aver creduto sempre di non essere mai abbastanza. Lei crede che le donne abbiano ancora un problema di autostima? Dipende in quale parte del mondo vivi. Cioè, nel nostro io direi che questo problema c'è molto meno, poi la fiducia in se stessi è qualcosa che va conquistato quotidianamente e dipende, insomma, da quello che fai, dalla tua capacità di reagire. Cioè, è molto... Non direi che è un problema congenito. È più un problema culturale. Lei ha fatto... È un problema culturale, è un problema di ognuno come vive la propria vita, no? Che obiettivi si dà. Vale per gli uomini, vale per le donne. Ho conosciuto tanti uomini che hanno pochissima autostima. Tante donne che ne hanno fin troppa. E tanti uomini che ne hanno fin troppa. Quindi, cioè, se togliamo quella parte di mondo dove sappiamo tutti, no? Dove le donne a testa bassa Da questa parte del mondo direi che questo problema, insomma, è veramente molto soggettivo. Non è che abbiamo attorno delle condizioni che ti impongono questo tipo di problema. Lei, all'inizio della sua carriera, ha fatto dei grandi reportage dalle zone più remote, è andata in Cina, è andata in posti che all'epoca erano piuttosto inaccessibili, no? E in quelle situazioni, lei, tornandoci ora, se ci tornasse ora, crede che sarebbero cambiate le situazioni anche rispetto alle condizioni femminili? Ma in alcune zone presumibilmente sì. in altre, in altre molto meno. Non penso che in Somalia siano cambiate moltissimo le condizioni della donna. Non credo nemmeno a Gaza. penso che siano cambiate di più, per esempio, in alcune aree delle ex repubbliche russe, dei paesi, c'è tipo in Cecenia, in questi posti sono sicuramente diverse le condizioni. Ho un feedback diretto, per esempio, su come è cambiato l'approccio al lavoro e alla vita nella società da parte delle donne in Mozambico rispetto a 30 anni fa. certo, è ancora lontano, la strada è lunga. Però, insomma, qualcosa è cambiato. Infatti, in una celebre frase, Marie Curie dice la vita non è facile per nessuno di noi e allora nella vita non c'è nulla da temere, solo da capire. Lei cosa teme di più e perché? Non riesco nemmeno a pronunciarlo. Che cosa ha capito della vita in tutti questi anni di carriera professionale e anche di vita privata, personale? Insomma, avendo una certa età, adesso qualcosina, della vita ho certamente capito che si muore e quindi se hai, cioè tutti i tuoi anni li hai investiti solo su te stesso, alla fine non resta proprio niente, non lasci indietro niente. Se lasci dei soldi perché hai accumulato tanto, qualcuno si scannerà per l'eredità. Quindi, sostanzialmente, ho capito questo, che fai per gli altri, non necessariamente uno deve fare il prete o la suora, no? Però investi nella tua quotidianità in maniera generosa. Perché l'unico modo per, credo, dare proprio un senso alla propria vita sia questo, riuscire a sopravvivere, no? Alla propria morte in un bel ricordo. E ha dei rimpianti? Sì, aver fatto un solo figlio. Altri orizzonti. Camminare, conoscere, scoprire. Questo è il tema della dodicesima edizione di Pistoia Dialoghi sull'uomo. Quali sono i suoi di orizzonti? Nulla è dato per scontato. Questo è l'orizzonte. Quindi, che succede domani? Io non ho mai l'impressione che stia avvenendo qualcosa di ripetitivo. Quindi, il mio orizzonte di domani lo scoprirò domani. Io ho scelto di fare un mestiere e continuerò a farlo finché mi sarà possibile farlo, cercando di alzare un po' sempre di più l'asticella. Però, ripeto, senza dare nulla per scontato, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Il mio orizzonte è rivedere sempre le mie posizioni e correggerle. Cioè, se posso non sbaglio, però non mi dispero se sbaglio. Chiedere scusa è sempre un punto di forza. Faccio un'ultima domanda. Come ha vissuto questo anno di pandemia? Cioè, com'è cambiata la sua vita? Quali riflessioni ha suscitato questa lunga sospensione? Il saper riconoscere le cose per quello che sono e quindi riuscire a distinguere quelle per le quali vale la pena battersi per cambiarle e quelle che devono essere accettate senza lamentarsi troppo. Nella fattispecie, una cosa che si è abituata a accettare in questo periodo? Un po' di solitudine. E fare delle interviste via video? Fare delle interviste. Un po' di solitudine, nel senso che ha fatto un po' di pulizia nella mia testa, no? Cioè, tanto tempo sprecato in nulla e scopri che è sprecato in nulla nel momento in cui alcune cose ti mancano, altre proprio no. E quindi questo mi ha anche ha aiutato ad utilizzare meglio il tempo. E crede che in generale, non riguardo anche a lei, ma in generale torneremo a fare una vita normale, cioè ci dimenticheremo di queste lezioni, mettiamo così, che la pandemia ci ha dato, oppure torneremo tutti a fare quello che facevamo prima? Temo che torneremo tutti a fare... Mi auguro di no, ma temo che torneremo a fare quello che facevamo prima, speriamo non peggio, cioè sarebbe già una bella conquista non riuscire a peggiorare le cose ed avere un po' più di attenzione per l'ambiente, perché poi è questo, no, quello che ci ha mostrato è proprio la fragilità in cui viviamo senza rendercene conto, pensando che tutto sia inossidabile, così non è. Stiamo sventrando talmente tanto la natura in tutti i luoghi e posti più remoti che alla fine si vendica. Credo che questo lo abbiamo capito e in una parte della nostra testa resterà non tanto nelle persone più giovani, ma in quelle che cominciano ad avere un'età ancora lavorativa, ma come dire, ha scavallato, chi ha scavallato in 50, io penso che ha ricevuto una bella lezione e siccome è ancora quell'età classe dirigente, speriamo. Speriamo. La ringrazio molto. Prego. Grazie. 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 Grazie.